Il padrone di casa è il professor Marco Matteo Ciccone. Questo convegno è un convegno che prevede l'intervento di tutti i cardiologi di Puglia e di Basilicata, nelle quali si uniscono e confluiscono non solo la Società Italiana di Cardiologia e l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, ma come avete visto nel programma intervengono quasi tutte le società della federazione, dall'Arca all'Aiac all'Ance al Gise e è l'incontro di tutti i cardiologi di Puglia e Basilicata. Il programma quest'anno è verso il nuovo, sia per quello che riguarda le tecnologie, sia per quello che riguarda l'organizzazione sanitaria, sia per quello che riguarda le nuove terapie in campo cardiovascolare e rappresenta un momento estremamente importante, decisionale, non solo per i cardiologi ma anche per l'industria, in quanto fondamentalmente da qui partono PON e progetti di ricerca interessanti. Grazie.